Buongiorno a tutti, ben arrivati in diretta, buongiorno, devo dire che non vedevo così tanta gente da circa un anno e mezzo, mi capirete, quindi sono felice di essere tra le persone seppur con le distanze di sicurezza, innanzitutto saluto subito la Ministra Elena Bonetti, Ministra delle Pari Opportunità che sarà con noi in questa tavola rotonda che è all'interno della mostra d'assegna per l'inclusione libera e dividere, diversità e ambiente per la crescita del sistema Italia, diversità e ambiente, Ministra, due parole direi forse inflazionate oggi, ma che in realtà forse ci stiamo dando l'idea, visto che le sentiamo tante volte, di quanto il mondo stia cambiando e di come questo sia una cosa positiva, però se parliamo di inclusione, parliamo di ambiente, prima di capire che cosa sta facendo l'Italia, è bene forse fare una fotografia, allora oggi l'Italia che cosa racconta in termini di ambiente, in termini di inclusione? Beh innanzitutto mi lascio ringraziare la Global Thinking Foundation, Claudia Segre per questo importante invito per la bellissima mostra e grazie a chi ha voluto partecipare a questa iniziativa, perché certifica innanzitutto, e quindi questo è il primo tratto dell'Italia che è oggi, che dobbiamo guardare oggi, certifica che c'è un'Italia, che c'è un paese che ha il coraggio di riconoscere quelle che sono le sentinelle di futuro che già oggi possiamo incontrare nel nostro vissuto e tra le sentinelle del futuro, queste tracce di futuro che noi oggi siamo chiamati a far emergere, a individuare, per costruire il cammino, quell'investimento oggi nel tempo del presente su questo futuro, c'è, io credo sia necessario mettere ad emersione, uno sguardo nuovo sul tema diversità e inclusione, che è collegato alla dimensione ambientale. E perché è collegato alla dimensione ambientale? Perché ciò che è diverso, lo dico un po' da matematica, è implicitamente messo in una relazione con un qualcos'altro e ciò che è l'ambiente del nostro vissuto umano è la capacità di far sì che la nostra individualità che è vissuta in uno spazio, in un tempo, in un luogo, in una città, in un percorso di vita, non è semplicemente la monade di un individuo, ma è collegato e si dispiega negli incontri, nelle relazioni possibili e queste relazioni si attivano laddove noi sappiamo riconoscere che c'è un altro diverso da noi e che con quest'altro diverso da noi noi dobbiamo costruire un legame, una relazione. Questo in particolare vale per esempio sul tema del femminile. Il grande dibattito che c'è sul tema della valorizzazione dell'esperienza femminile nel nostro paese parte da questo concetto, cioè il fatto che l'Italia riconosce che c'è uno sguardo diverso da quello apparentemente neutro con cui per troppi anni abbiamo raccontato il nostro vissuto, che è lo sguardo dell'esperienza, del vissuto, del linguaggio delle donne e che non è una piccola minoranza, un pezzetto di questo disegno, ma è un elemento necessario per attivare nell'ecosistema del nostro vissuto sociale quell'energia che oggi ancora abbiamo inespressa. Ecco l'Italia oggi è a questo punto del proprio cammino, penso anche che sia anche arrivato il momento e che ci siano le condizioni per che questo accada, che questa scintilla diciamo di riattivazione di questi legami di incontro tra le diversità per la composizione di un unico racconto, che è quello del tempo migliore, del futuro sostenibile, dello sviluppo sostenibile che vogliamo costruire, ecco credo che sia venuto il momento di attuarlo. Ecco parliamo proprio del femminile, ha parlato di energia molto bella, questa immagine devo dire che probabilmente mai come in questo momento è il momento di sfruttare queste energie che sono così condivise. E torniamo alla fotografia, c'è, si sente sotto traccia, ma non solo sotto traccia, visto la grande comunicazione che in questo momento abbiamo, però la voglia di cambiare. Però diciamo se ci sono ambiti in cui il nostro paese, ed è bene ricordarlo perché si fa sempre molto in fretta a parlare male dell'Italia, però ci sono sicuramente tante eccellenze dall'impresa a volte anche all'ecologia, perché se pensiamo alla raccolta differenziata, noi se ci guardiamo in Europa siamo molto bravi, quindi non siamo sempre indietro su tutto. Sul tema femminili invece diciamo partiamo da una situazione di grande svantaggio. Ecco, fotografiamo quella. La donna in Italia oggi lavora poco, è poco formata sulle materie che rappresentano l'ambiente di lavoro di oggi e di domani, non è fortemente assistita da uno Stato che fornisce le cose necessarie, perché sappiamo il tema degli asili nidi. Ecco, qual è oggi la fotografia e quindi qual è la base da cui un governo può partire? I dati certificano, come ha detto, una quantità e qualità del lavoro femminile negli ultimi posti rispetto alla media europea. Certificano un gap di competenze nell'ambito digitale maggiore della media europea, certificano un gap di genere, cioè una distanza per esempio sulle competenze di matematica, nelle ragazze e dei ragazzi, nel nostro paese, molto più alta che nella media oxe. Certificano l'abbandono delle donne nel mondo del lavoro dopo un primo figlio, accanto a questo certificano il fatto che le donne nel nostro paese non sono libere di scegliere di essere madri e lavoratrici perché costrette a rinunciare all'uno o all'altra di queste scelte con l'effetto che lavorano in troppo poche donne e il calo demografico è arrivato a livelli che mai prima si erano visti nella storia del nostro paese, dall'unità d'Italia, siamo a dati veramente drammatici di declino e questo va a cozzare con l'idea di uno sviluppo, di uno investimento invece per il paese e questi sono i dati. Poi io accanto ai dati metto però uno sguardo e in questo sguardo vedo invece donne, tante donne, molte devo dire anzi tutte le donne presenti qui in sala, che hanno cambiato, stanno cambiando la storia del nostro paese. Ho lo sguardo di mesi vissuti nella drammaticità della pandemia in cui le donne sono state il volto di una possibile speranza, dalle ricercatrici, dei laboratori alle donne che lavoravano come maggioranza negli ospedali, nelle farmacie, nei supermercati. Paradossalmente nel momento più drammatico del nostro paese è stato il femminile il volto della resilienza, della resistenza dell'Italia. Poi cosa è accaduto? Che certo i dati dimostrano l'uscita delle donne dal mondo del lavoro. Allora perché ha voluto mettere accanto i dati e questo sguardo? Perché da un lato dobbiamo avere la capacità di capire il punto iniziale, dall'altro però lo sguardo ci dice anche non solo dove vogliamo arrivare, che è un mondo in cui ci sia una piena libertà di tutte e di tutti di poter esprimere la propria personalità a servizio della collettività, ma dall'altro noi abbiamo le energie per farlo. E allora di fronte ad un paese che ha vissuto e sta vivendo momenti drammatici anche dal punto di vista economico, cioè l'Italia ha un tasso di decrescita o comunque non certo un tasso di crescita paragonabile a altri contesti europei, noi alla fine se usiamo lo sguardo in avanti ci accorgiamo che c'è una potenzialità enorme in questo femminile, questa energia inespressa potenziale che va, come dire, liberata e a cui bisogna dare gli strumenti perché possa essere liberata. L'occasione è evidentemente storica e oltre che essere un'occasione è una necessaria responsabilità che dobbiamo mettere in campo, perché l'investimento della Next Generation EU mai prima d'ora era stato disponibile, ecco perché è importante che nella Next Generation EU si siano individuate quelle direzioni, poi dichiarate nella strategia nazionale per la parità di genere, che investono in lavoro femminile. Lavoro femminile vuol dire imprenditoria, vuol dire politiche attive, vuol dire fiscalità agevolata per le imprese che mettono in campo politiche per la parità di genere, quelle azioni positive che cambiano il sistema, vuol dire cambio delle regole del gioco nel nostro welfare, vuol dire riforma delle politiche familiari perché le politiche familiari sono strettamente connesse al tema della potenziale emancipazione dell'energia femminile nel contesto comunitario e quindi la riforma del family act, vuol dire formazione, una formazione per le materie STEM, per rompere con gli stereotipi che dicono che le bambine sono meno portate dei ragazzi, io insegno matematica all'università, tra l'altro l'università di Milano, io so la qualità dell'intelligenza femminile nel mondo scientifico. Che percentuale ha di studentesse donne? Allora adesso io, dipende dal corso di studi, a matematica, insegnando a matematica, matematica è tra le discipline STEM, all'università si è a percentuali diciamo paritarie, io fisica fosse un terzo o due terzi, adesso magari le prorettrici presenti mi sgridano perché non ho i dati delle immatricolazioni ultime. Però non era prevista questa domanda. Io parto, parto come la mia carriera accademica come docente di analisi matematica a ingegneria e quando insegnavo ingegneria, non so, civile, estronica, insomma, lì le ragazze erano 20%, 25%, ecco. Poi in realtà questo diciamo nella percentuale dello sguardo nell'aula, dei 300 in aula, quando poi agli esami si arrivava alla valutazione, è evidente che lì il femminile invece fioriva con una qualità di risposta straordinaria, per cui se poi il numero era pesato rispetto al risultato finale, lì il femminile emergeva in modo evidente. Allora, diciamo, lei ha già iniziato a citare ambiti molto concreti, il lavoro, andiamo diciamo per gradi. Lei è partita da una nota positiva, da questo sguardo che condivido pienamente e poi immagino che questo sguardo sia quello che poi possa tirare fuori le energie positive, però nel lockdown anche se abbiamo visto immagini femminili, abbiamo visto il 15-22 diciamo sobbissato di chiamate, quindi la violenza familiare, la violenza sulle donne è aumentata, ecco. Allora, tutto quello che va fatto ed è tantissimo, va organizzato, non lo posso dire ad una matematica, visto che sono laureata in lettere, però le direi, con la sua mentalità matematica procediamo per gradi, partiamo magari dalla violenza, che cosa il governo, che cosa il suo ministero può fare perché il tema anche della violenza di genere sia più innanzitutto sentito da tutti e più condiviso da tutti, perché guardi abbiamo fatto una diretta nei mesi del lockdown e ci siamo trovati uomini che nei social partecipavano e dicevano che è una sciocchezza, non è vero, non esiste, quindi l'approccio negazionista continua ad esserci. Ecco, cosa si può fare su questo? Quali sono gli ambiti di intervento? La formazione, la cultura, il controllo, le norme? Come sempre i fenomeni sociali così pervasivi, purtroppo in negativo, della nostra vita richiedono un approccio multidimensionale, perché multidimensionale è il fatto stesso, la problematica. E la problematica. Intanto bisogna farla esistere, cioè bisogna rompere quel muro di negazionismo e per fare esistere le cose, alle cose bisogna dare un nome e una concretezza. La politica deve fare anche questo, deve promuovere percorsi, processi anche culturali, fondamentale è il tema della formazione, fondamentale è il tema educativo, fondamentali sono i media, perché il fenomeno deve essere fatto emergere, questo è accaduto, perché se il fenomeno della violenza viene lasciato nel nascondimento, la violenza non esiste, in realtà accade, accade nelle nostre case, ma per noi non c'è. Ecco, intanto c'è questo elemento fondamentale e non è solo la denuncia, e avere il coraggio di un linguaggio che, per esempio, di fronte ad un atto di violenza esercitata contro una donna, lo condanna, quell'atto identifica in modo chiaro chi è la vittima e chi è il colpevole e non aduce alibi o giustificazioni di qualsiasi natura. Quindi norme chiare riferite a... Norme e anche linguaggio istituzionale chiaro. L'altro tema è un percorso di sostegno ad una rete territoriale e di prossimità che deve coinvolgere le forze dell'ordine, il sistema sanitario, il sistema educativo, che è non solo di prevenzione ma anche di sentinella rispetto al fenomeno della violenza, il mondo del lavoro, perché le donne devono innanzitutto trovare una comunità alla quale rivolgersi avendo fiducia in quella comunità. La violenza vive di solitudine e quindi noi quella solitudine dobbiamo rompere attraverso dei legami e i legami si costruiscono nei luoghi del vissuto delle persone, nel luogo del lavoro, della comunità, dell'incontro. Una donna deve sapere che se subisce violenza nella propria casa può aprire una porta e che fuori da quella porta c'è qualcuno a cui potessi rivolgere. Questo è un passaggio fondamentale. E quel qualcuno dall'altra parte deve essere formato per accogliere questa richiesta d'aiuto e sapere che canali attivare. Quindi la rete dei centri antiviolenza, le case rifugio e davvero tutta la rete di questi soggetti che ho nominato è fondamentale sia veramente costruita con una regia a livello territoriale fondamentale. Va sostenuta, va sostenuta con delle risorse. Io intendo anche presentare un piano per far sì che ci sia una strutturalità per il nostro paese, sia per le risorse ma soprattutto per l'utilizzo, quindi dare al paese un piano strategico nazionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne che sia strutturale, stabile, ogni tre anni, rinnovato, per legge, perché questo è un paese che vuole risolvere il problema. E poi accanto a questo però c'è un tema della rimozione delle disparità, perché è nella disparità che si insinua quella subcultura di discriminazione che è la linfa della violenza. E eliminare le disparità vuol dire sconfiggere la violenza economica, vuol dire sconfiggere quel legame di dipendenza finanziario delle donne rispetto agli uomini che è per le donne causa spesso della non denuncia. Per una donna a volte denunciare significa rimanere priva di risorse per sé per i propri figli e quindi invece bisogna sconfiggere questo elemento aiutando le donne ad entrare nel mondo del lavoro, educandole da un punto di vista finanziario e anche mettendo in campo strumenti ad hoc. Noi abbiamo introdotto il reddito di libertà per le donne che escono dai percorsi di violenza con reddito basso o il microcredito di libertà per offrire una fiducia totalmente garantita al 100% dallo Stato per darle una possibilità dicendo noi investiamo su di te, sui tuoi desideri, sulle tue ambizioni, sui tuoi progetti di lavoro, ci crediamo, ti accompagniamo, non ti lasciamo sola ma riattiviamo una tua autonomia, un tuo percorso personale e questo è un modo per restituire speranza e fiducia anche alle donne. Allora l'autonomia economica può essere appunto una soluzione certamente in tutti i casi di violenza economica, quindi quando la donna subisce violenza perché non ha altra scelta o pensa di non avere altra scelta. Però diciamo per raggiungere, al di là dell'aiuto che giustamente il Paese deve dare a queste donne, per raggiungere questa indipendenza economica torniamo allora al tema della formazione. Lei è una matematica, sappiamo che le materie STEM in Italia non piacciono alle donne, allora quali sono le strade? Che tipo di incentivazione, di lavoro sulla cultura? Perché evidentemente, se ne parlavo oggi pomeriggi in un'altra tavola rotonda, magari le donne scelgono anche materie umanistiche o artistiche molte più degli uomini perché non hanno dall'altra parte anche l'ambizione o l'idea di che cosa le possa aspettare a livello di carriera, quindi creare qualcosa di interessante anche per le donne e quindi orientarle più verso le materie che sono già oggi e saranno domani il lavoro. Come si affronta il tema della formazione? Cosa si fa? Bisogna investire sulla formazione scientifica a partire dai primissimi anni di vita in qualche modo la matematica deve affiancarsi all'allazione io penso cioè bisogna che il linguaggio della scienza sia un linguaggio che ti abilita la tua dimensione di persona nella comunità. Oggi noi bambini entrano in relazione con se stessi e con gli altri attraverso il linguaggio, la lingua, il gioco, il disegno non si usa l'esperienza scientifica che è invece aggiunta solo a posteriori formalizzata quando entra nella scuola. Ecco invece un percorso educativo che si avvalga anche delle nuove diciamo le nuove linee nell'ambito della neuroscienza a partire dai primissimi anni di vita proprio gli asili nido ecco lì vuol dire che la scienza diventa in qualche modo un pezzo della tua anche della sensibilità dell'esperienza di una donna e di un uomo di una bambina e di un bambino. In questo modo per le bambine la matematica non sarà più e quindi la matematica è a seguire tutte le discipline scientifiche non saranno più quelle discipline come dire un po' astratte un po' troppo difficili alle quali non accedere. Quindi questo è il primo passo e per farlo però bisogna formare la classe insegnanti nel PNRR che abbiamo pensato proposto scusate c'è un piano di più di un miliardo di euro di investimenti proprio per arrivare a raggiungere questo obiettivo. Il secondo elemento però è capire che il percorso scientifico è un percorso anche di potenziale empowerment per le ragazze perché chi affronta la scienza affronta, non sa chi fa ricerca scientifica affronta un mondo nel quale ciascuno di noi entra consapevole che c'è qualcosa che non si sa fare, cioè che c'è un problema che è più grande di noi che è difficile e proprio quel problema che è difficile vale tutto il desiderio e il coraggio di dover essere affrontato. Perché? Perché se anche quel problema è difficile faremo degli errori sarà un modo per andare avanti e per le ragazze alle quali noi diciamo dovete essere perfette non potete sbagliare, non potete fare un errore perché dovrete fare molta più fatica, invece apprendere che facendo un errore si fa un passo avanti e che ci si può concedere anche di sbagliare perché in quell'errore c'è un percorso scientifico di apprendimento di scoperta del nuovo che il nuovo passa anche attraverso se stessi le proprie limiti e le proprie potenzialità è un modo anche per riattivare i sogni del femminile. Terzo elemento fondamentale, io lo guardo dal punto di vista della scienza e della matematica. La scienza ha bisogno delle donne perché altrimenti sarà una scienza scritta solamente nel genere maschile. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo... Che tipicità? Sono approcci completamente, sono approcci proprio diversi una figlia e un figlio affrontano il mondo scientifico in modo diverso io sono più vicina come approccio a quello di mia figlia e quando scopro mio figlio di fronte a un problema matematica come parte, partono in due modi diversi io mi rendo conto che il mio cervello funziona maggiormente come quello di mia figlia i cervelli dell'uomo e della donna sono diversi, questo non lo dice la matematica ma a parte questo c'è anche poi un'attitudine sociale a cui siamo abituati in modo diverso le donne sono multidimensionali, multitasking, io dico a volte ragionano in parallelo non in serie e questo fa sì che ci sia un approccio complessivo al problema hanno un'eleganza nella gestione del problema maggiore, un approccio logico più strutturato, di processo di costruzione del ragionamento non c'è solo l'intuizione che percepisci sulla quale ti butti, c'è una scoperta in cui entri passo dopo passo con un rigore diverso le mie studentesse hanno una capacità di rigore nella costruzione delle definizioni, nella dimostrazione dei teoremi che è straordinaria ma se la scienza poi non racconta anche però la parte empatica questo desiderio un po' della fantasia che suscita la scienza ecco questa dimensione un po' più emotiva un po' più che non distingue il ragionamento anche dal percepito appunto del gusto estetico di una cosa che è più tipico del femminile noi perdiamo per la scienza quel pezzo invece che è secondo me che la rende davvero inclusiva d'altra parte si sa oggi gli algoritmi per l'intelligenza artificiale sono scritti per lo più dagli uomini quelli con cui funzionano tutti i nostri diciamo dai telefonini è tutto scritto prevalentemente dagli uomini perché abbiamo poche donne che fanno coding che scrivono algoritmi e in realtà ci hanno convinto per tanto tempo che il linguaggio neutro fosse un linguaggio onnicomprensivo del femminile e del maschile e non è così, non è così quell'algoritmo ti indirizza su un'esperienza che è quella di chi l'ha scritto che è quella di un uomo Riuscire a far passare la parte empatica della matematica a scuola vuol dire come ha detto lei lavorare sui docenti Assolutamente Quanto è realistico questo lavoro? È realistico nel senso che lo dobbiamo fare lo dobbiamo fare ciò che oggi io penso che la nostra generazione non si debba domandare cosa può fare la nostra generazione si deve domandare cosa deve fare perché possa accadere qualcosa per i nostri figli e questa scelta per esempio di cambiare anche l'approccio pedagogico nelle materie scientifiche è realistico nel senso che lo renderemo realistico la realizzeremo perché non ci possiamo permettere di non farlo altrimenti avremo preso i soldi dal futuro dei nostri figli questi miliardi che non erano il frutto dei nostri risparmi oculati del passato ma sono semplicemente il futuro dei nostri figli che noi abbiamo portato indietro nel tempo li stiamo usando e siccome io vorrei che i miei figli arrivassero nel loro presente da adulti che è questo futuro in avanti non vorrei che se lo trovassero come dire depredato da noi ma lo vorrei più bello e migliore per loro e quindi la nostra responsabilità è rendere concrete queste ambizioni e poi agire piuttosto che lamentarsi è sempre la scelta giusta facciamo un passo avanti mettiamo che abbiamo fatto già il lavoro sulla formazione la donna con materie STEM arriva nel mondo del lavoro preparazione tecnologica, intelligenza artificiale si trova in Italia una situazione in cui le donne nelle imprese hanno comunque sempre un ruolo secondario come si incentiva, come si supporta tanto si è detto sulle quote rosa tante polemiche, una discussione classica tra me e mio marito in casa mi dice perché volete rinunciare al merito però prima di arrivare al merito bisogna scardinare forse un sistema ecco come si introduce la donna come si incentivano le imprese ad avere più donne che cosa si può fare praticamente? Beh innanzitutto bisogna iniziare a pensare che parlare di merito di nuovo non può prescindere dal fatto che il merito non è assessuato perché dipende sempre qual è il criterio con cui si valuta il merito di una persona e i criteri scelgono anche le graduatorie dei meriti e se faccio un esempio diciamo vicino non sono proprio io alla mia esperienza se il merito per esempio della produttività scientifica di una ricercatrice sono il numero, non so, fosse solo il numero dei lavori che vengono pubblicati in un anno allora è chiaro che questo apparentemente è un metodo oggettivo ma il numero dei lavori pubblicati in un anno è il merito che valuta chi è migliore in quell'anno nella produttività scientifica se però una ricercatrice donna magari bravissima, straordinaria che sta facendo una ricerca straordinaria in quell'anno lì rimane incinta non può entrare in laboratorio non pubblica allora quella è meno brava del suo collega maschio no, probabilmente non è meno brava del suo collega maschio semplicemente io la sto valutando solo su un criterio che la sta escludendo quindi intanto bisogna togliere questa come dire idea che il merito non possa essere definito diciamo in una sua dimensione di processo per questo che questa me la gioco subito con mio marito grazie nei processi di nomina io ho costituito un gruppo di lavoro presso il mio dipartimento con delle professioniste, costituzionaliste alcune anche tra l'altro delle mie colleghe di Milano che stanno lavorando su questo tema dei processi per esempio di trasparenza quindi è la trasparenza che rende paritario poi davvero meritocratico il sistema non è l'aver definito a priori perché io gioco che scelgo l'uno o l'altro in base a diciamo dei criteri che ho prefissato e su questo arrivo al tema delle imprese non è sempre come dire colpa tra virgolette delle imprese perché se un'impresa si trova davanti una ragazza e un ragazzo magari come dire stesso profilo adatti entrambi al ruolo per cui hanno bisogno di una persona l'impresa sa che se assume la ragazza prima o poi potrebbe costarle di più perché potrebbe essere che quella ragazza avrà un figlio e se quel figlio nel caso di maternità l'impresa deve sostituire quindi c'è un tema di riformazione di nuove competenze di assumere un'altra persona continuando giustamente a pagare i contributi anche per questa lavoratrice e quindi dall'inizio il sistema è un sistema che fa costare la maternità di quella ragazza e che crea una disparità allora cosa bisogna fare? bisogna decontribuire le sostituzioni di maternità bisogna dare degli incentivi all'impresa per il reskilling anche di quella donna che magari stando a casa in maternità ha comunque un'esperienza personale che le dà delle competenze da poter rigiocare nel mondo del lavoro e quando tornerà nel mondo del lavoro dovrà essere incentivata l'azienda deve essere incentivata attraverso premialità fiscale attraverso anche sostegni che attivino un processo in modo tale che quel reingresso sia un passo in avanti nella carriera sia di quella donna che dell'azienda per cui una donna dopo il primo figlio rientra al lavoro facendo un passo avanti non uscendo facendo un passo indietro come oggi accade per fare questo bisogna agire delle leve positive il certificato sulla parità di genere che abbiamo detto nel PNRR va in questa direzione cioè individuiamo quali sono le politiche che servono a fare questo e incentiviamole io penso come abbiamo incentivato la ricerca nei filoni innovativi che vogliamo sviluppare e siccome noi vogliamo sviluppare parità di genere nel lavoro il lavoro femminile deve costare di meno decontribuzione e costare di meno alle aziende quindi defiscalizzazione per le aziende 4,6 miliardi miliardi esatto destinati al raddoppio dei posti negli asili nido anche questo PNRR questo sì è un PNRR sono tutte azioni che fanno parte del piano integrato della riforma del Family Act che dicevo riforma le politiche familiari mettendo un grande accento sul protagonismo femminile 4,6 miliardi vuol dire diciamo le PNRR sono segnati 230 mila posti in più in realtà siamo stati molto prudenti perché quello che faremo attraverso i bandi sarà incentivare proprio per un tema di sostenibilità ambientale non tanto la costruzione di nuovi esili nido ma anche la riqualificazione di quei tanti ambienti anche magari molto belli ma lasciate andare insomma un po' squalificati in tante anche aree interne del nostro paese e promozione di servizi educativi per la prima infanzia per due motivi uno per fare quello che abbiamo detto prima cioè la formazione dei primissimi anni di vita più paritaria sia a livello territoriale che sociale che tra le bambine e bambini e poi c'è un tema che è noto cioè le donne oggi quando hanno dei figli si trovano senza supporti siccome non c'è una dimensione paritaria della cura familiare tra un uomo e una donna ci si guarda e si dice chi è che rimane a casa chi guadagna di più va a lavorare e chi sa chi guadagna di più è l'uomo però è un circolo vizioso cioè come dire un sistema che va avanti con la stessa inerzia di sempre ed è per quello che per fermare questa inerzia dobbiamo agirla una forza gli asili nido sono un pezzo di questa forza che vogliamo mettere in campo ecco diciamo spesso si hanno tante belle idee no su come risolvere i problemi dell'italia però diciamo la cosa fondamentale e lo dico una tematica poi è la misura perché noi abbiamo fatto nella storia del nostro paese tante grandi belle leggi con le migliori intenzioni però poi nessuno si è messo a posteriori a misurare gli effetti e l'impatto che invece è una cosa fondamentale perché una legge può anche avere un impatto al di sotto delle attese o al di sopra delle attese e tutto il lavoro diciamo normativo successivo non può prescindere dalla misurazione di quello che si fa che cosa farete voi per misurare tutto quello che avete in cantiere? Nella strategia nazionale per la parità di genere che tra l'altro è la prima strategia nazionale che viene scritta in Italia l'Italia per la prima volta si dota di una strategia nazionale per la parità di genere individueremo obiettivi molto chiari per esempio gap occupazionale tra gli uomini e le donne gap salariale tra gli uomini e le donne gap di formazione scientifica tra le donne e gli uomini presenza delle donne non solo nei board delle aziende ma nelle donne nei ruoli apicali CEO femminili ma presenza del femminile in tutti i livelli diciamo della carriera di un'impresa e altrettanto nel pubblico quindi donne che oggi sono nelle istituzioni donne che sono in ruoli di responsabilità quindi dati che fotografino la situazione e ci diamo degli obiettivi in tre anni vogliamo aumentare di cinque punti il livello occupazionale PNRR per esempio dice che nell'ambito dell'occupazione femminile rispetto ad uno scenario base nel triennio 2023-2026 c'è un aumento di quasi il 4% sull'occupazione femminile a fronte di una media totale dell'occupazione di un 3-3 vuol dire che è evidente che lo sbilanciamento su quella media del 3-3 è sul femminile perché se la media del femminile è 4 complessivamente c'è un aumento su sud Italia questo ha ancora un fattore maggiorato del 5-5% parlo dell'ultimo triennio ma in tutti i pezzi diciamo di slot temporali individuati nel roadmap del PNRR c'è uno sbilanciamento su femminile e sui giovani è chiaro che questo poi però comporta un'altra cosa cioè la misurazione anche esposta cioè la valutazione che questi obiettivi siano stati raggiunti quest'ottica della valutazione quindi del gender budgeting della previsionalità con obiettivi chiari aiuta anche ad attivare politiche di promozione sulla parità di genere perché ti impone di stabilire in che modo le azioni che vai a mettere in campo possono incidere in quella su quello specifico diciamo indicatore che ti sei prefissato e poi vuol dire significa mettere un monitoraggio che non è sia solo al termine del percorso ma anche in fieri e questo anche induce un virtuosismo sia diciamo delle scelte delle politiche private che delle scelte delle politiche pubbliche insomma ministro l'aspettiamo per misurare arriverà il giorno in cui metteremo a terra tutte queste iniziative le misureremo e vedremo e avremo il coraggio di dire qui abbiamo fatto qui abbiamo sbagliato e correggiamo diciamo con grande onestà intellettuale in un obiettivo comune io ringrazio la ministra Elena Bonetti ricordo ministra per le pari opportunità ringrazio Claudia Segre presidente di Global Thinking Foundation perché è grazie a questi eventi a questi momenti di riflessione che queste energie positive questo sguardo di cui ci parlava la nostra ministra riuscirà a portare qualcosa di concreto di diverso e di migliore per il nostro paese arrivederci a tutti grazie 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 grazie